La regia ci manda il replay del gol Palla che si è infilata all'altezza del primo palo Da rivedere il posizionamento del portiere ovviamente E non ha coperto bene, no no Pallone in profondità Conclusione che manca di poco lo specchio della porta Aveva solo il portiere da battere, Piero Ma nel momento decisivo ha puntato sulla forza Meno potenza e più precisione la prossima volta Più lucidità Lautaro Martinez Il gol dell'Inter Che si porta dunque a più due sugli avversari Il pressing ha funzionato perfettamente Perché hanno riconquistato Palla E poi hanno costruito l'azione che ha portato poi al gol Che stiamo rivedendo Lautaro Martinez Taglia nel mezzo Può calciare in porta E c'è il gol Il sigillo Per questa vittoria Tre reti di scarto adesso Servirebbe un miracolo per riaprirla Possiamo rivedere il gol da un'altra angolazione Guarda come l'ha colpita bene Piero E' uscita fuori una conclusione secca Potente Nulla da fare per il portiere P unattbene Per questo è tutto Questa потом Meno Questa m'ho Questa volta Questa vittoria Questa vittoria